Il concerto è entusiastico, lui è sempre un dio da noi. Dove canta lei la prossima volta? A Lione. A Lione? Quando? A fine di settembre. E cosa canta? Faccio una ricostanza. Chi fa la regia? Non sappiamo niente proprio. Penso che il maestro arriva. No. Il maestro mi dice che il vostro lavoro su BAH va bene. Ah, il maestro. Tu anche un momento perché c'era lui. Che metti tu? Tre. Alle dieci? Sì. Sì, sì. 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 You have to be, you have to think very fast.